Siamo a Santomero dove si svolge la 38esima edizione della Sagra del Baccalà, un appuntamento imperdibile perché solo a Santomero si può gustare il vero Baccalà, un appuntamento imperdibile per la regione Abruzzo e la provincia di Teramo per la Val Vibrata di questa estate. Tanti i piatti dai primi, anzi dagli antipasti per finire poi ai secondi e sono anche tanti gli eventi collaterali per questo paese che ormai è un binomio inscindibile con questo prodotto tipico che è il Baccalà e come ogni anno anche questa edizione è organizzata impeccabilmente dal proloco locale, dal proloco di Santomero. Non ci sono in provincia sagre simili, forse perché la gente, diciamo, salsicce, spiedini e quant'altro lo trovano un po' dappertutto, questo è un appuntamento a cui non vogliono assolutamente mancare. La nostra fortuna è che abbiamo tantissime presenze fuori provincia, tantissimi turisti, tantissime persone che chiamano per prenotare le ferie proprio in questa occasione. Quindi merito va a chi ha iniziato questa sagra perché effettivamente ha scelto un prodotto particolare. Noi ci stiamo impegnando per portare avanti questa tradizione, per cercare di migliorare sotto l'aspetto qualitativo, utilizzando sia materie prime di eccellenza, sia anche tutti gli ingredienti, diciamo, vengono scelti con cura per poter soddisfare al meglio le aspettative dei visitatori. Sono soddisfatto per questa edizione perché, diciamo, abbiamo riportato la piena collaborazione con tutte le attività presenti sul territorio, con i ristoranti, perché il nostro obiettivo è promuovere un piatto che è diventato ormai della tradizione di Santomero, farlo conoscere a tantissime persone e dar modo ai visitatori di tornare nel resto dell'anno a degustare il baccalà a Santomero, perché Santomero è diventato il paese del baccalà e dove si può mangiare veramente del baccalà di ottima qualità. Grazie Grazie